Eccoci! Oggi Canale Arte torna online e lo fa con i reportage, le interviste, con le produzioni originali e con quell'immenso archivio che da sempre ci contraddistingue. Ci troviamo all'interno del Museo Ettore Fico di Torino, una affascinata location museale che è stata ricavata all'interno di uno spazio industriale tipico del boom economico del capoluogo Sabaudo. Oggi viene inaugurata la mostra Tre donne tre secoli, composta da tre antologiche con tre protagoniste ed eccezione, La Contessa di Castiglione, Maggi Embling e Maemuna Guerresi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 28 settembre al 17 dicembre 2023. Io sono Valdemar Obracus, il direttore di Canale Arte. Cliccate nei link in descrizione per seguirci sul nostro canale YouTube e vedere il reportage completo. Tre donne tre secoli. Ci vediamo su YouTube!